Ciao a tutti ragazzi, in questo video oggi voglio concentrarmi su Great Road of Heroes, l'ultimo videogioco di Nazuma Eleven annunciato molti anni fa e che ha subito notevoli posticipi, continui posticipi, fino all'ultimo di inizio aprile al 2023, almeno data prevista di uscita in Giappone. Abbiamo già parlato velocemente di Great Road of Heroes in uno degli ultimi video in cui vi ho discusso con voi sul futuro possibile della serie di questo brand. Oggi voglio concentrarmi proprio su questo capitolo e quindi sul perché continua ad essere rimandato, cioè quali sono i reali motivi dietro uno sviluppo così lungo e che non è uno sviluppo così lungo fino a se stesso perché quando è stato annunciato Great Road of Heroes, ricordiamolo ormai era il 2016, è stato annunciato insieme all'inizio della versione anime appunto della nuova serie di Nazuma Eleven che era in Nazuma Eleven Ares e quindi è stato annunciato conseguentemente anche il gioco che questa volta appunto seguiva la pubblicazione dell'anime. Ovviamente inizialmente quindi era stato già pianificato lo sviluppo e infatti era previsto per il 2018, primo rilascio previsto per il 2018, quindi due anni di distanza e doveva seguire solo le orme di Nazuma Eleven Ares. Poi ovviamente i cambi di piani, il ritardo nello sviluppo del gioco ha portato comunque Level File a doverlo riconsiderare anche perché dopo Ares l'anime ha continuato, è uscito Orion e quindi dato che il gioco non è uscito in tempo ha costretto Level File comunque a riguardarlo, a dover includere anche Orion, dato che la serie ormai stava andando in onda o era già finita. Quindi in primo momento il gioco non era più la trasposizione dell'anime, della prima serie dell'anime, cioè solo Ares, ma doveva includere anche nuovi contenuti e questo sicuramente ha portato anche a uno sviluppo più lungo. Il gioco era stato appunto previsto in uscita ed è ancora previsto in uscita su Switch, PS4 e anche sui dispositivi mobili e adesso appunto sappiamo che è stato rimandato ulteriormente al 2023. Nel frattempo appunto sono successe un po' di cose. Abbiamo già discusso sul fatto che Level 5 non naviga in acque tranquillissime in quest'ultimo periodo, che si sta concentrando su serie che gli portano economicamente più introiti, diciamo, e che appunto in Azuma Eleven anche in Patria ormai è fuori dai radar da un po' e quindi anche il peso che la community, l'interesse che dimostra verso la serie non è lo stesso di un tempo. Ma a cosa possono essere dovute questo calo di interesse? Ovviamente non solo al rinvio di questo gioco. Secondo me il problema principale è probabilmente il passaggio dall'era del DS a quella del 3DS successivamente Switch. Questo perché il cambio di grafica, il passare dal 2D, dalla quasi pixel art definirei, al 3D, che c'è già stato nella prima serie rispetto alla seconda, ha portato agli sviluppatori a doversi concentrare molto sul fronte tecnico sicuramente. Modellazione dei personaggi, animazioni, tutto più bello eccetera. Però hanno voluto probabilmente strafare impoverendo un po' la trama o esagerandola in certi tratti. Questo è anche il motivo per cui poi in Azuma Eleven Great Road of Heroes, o Ares, o Orion, è poi un reboot di quello che succede dopo la prima stagione. Cioè nel senso perché quello che è successo, cioè tutto quello che è in Azuma Eleven Go, nessuno dice che è brutto, che non ha senso. Però ovviamente ha lasciato un po' il tempo che trova, nel senso. Quindi non ha fatto breccia nel cuore dei fan per la sua narrazione, è tutto stato un po' più approssimativo rispetto alla prima serie, che aveva personaggi molto carismatici, una trama sì un po' fuori dalle righe come sempre, però ben delineata con appunto uno sviluppo sensato, e meno esagerazioni di battaglie intergalattiche, super complotti a livello appunto mondiale. E quindi appunto è nato come reboot del, da dopo appunto il Football Frontier, si va avanti con nuovi personaggi, una nuova storia, che doveva appunto ripercorrere un po' quelli che erano i canoni della trilogia principale. Ora, nell'ultimo periodo ovviamente Great Rodovirus ha subito una completa ristrutturazione, perché c'è stato un forte malcontento da parte dei membri del team di sviluppo, dopo appunto i primi rinvii, eccetera, ma anche per il riscontro che hanno avuto dai fan, che non era propriamente esaltante. E quindi anche loro si sono un po' demoralizzati in questo progetto, tanto che l'hanno praticamente rivisto da zero. Come sapete infatti adesso Great Rodovirus non seguirà più le orme di Ares o di Orion. È un capitolo a sé stante, con un nuovo protagonista, che quindi andrà a tracciare un nuovo percorso per la serie. E infatti chiudo con questa che è la mia speranza più grande, che Great Rodovirus faccia tesoro di tutto il tempo che ha richiesto lo sviluppo, che quindi non esca solo per non allungare ulteriormente i tempi e quindi giustamente anche l'esborso economico della software house, ma che appunto ci sia dell'attenzione sia sul fronte del gameplay, sul fronte ludico, sul fronte narrativo soprattutto, che possa davvero far risorgere questo brand dalle ceneri. Perché secondo me è possibile. E come ho già detto nel video precedente, se invece risulterà essere l'ultimo capitolo della serie, speriamo che sia davvero un bel capitolo, con una buona trama, dei bei personaggi, e che ci faccia vivere le emozioni che abbiamo vissuto con Mark e compagni. Vi ringrazio come al solito di essere stati in mia compagnia, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, se pensate anche voi che in Azuma Eleven Great Rodovirus potrebbe davvero far risollevare le sorti di questa saga, oppure no, lo spazio appunto nei commenti qui sotto è sempre lì per voi, lasciate un like, iscrivetevi al canale, e noi ci vediamo molto presto. Ciao ragazzi!